Sì, è una partita troppo difficile, sembra facile, però non è facile. Sono noi che stiamo dentro del campo e sappiamo che questa partita è difficile. E' una partita che abbiamo vinto, che è importante. Cosa vi ha detto il mister prima di questa partita? Su che cosa ha puntato? Sì, il mister ha sempre parlato con me che devo migliorare, provare sempre, guardando sempre Izzo, Moretti, che sono un bravo ragazzo. Sì, sempre manteniamo fermi e attivo, che nella prossima volta possiamo entrare e giocare titolare.